Dimagrire a pancia piena? Parliamone! Ma è davvero possibile per il tuo cane perdere peso, dimagrire, quindi perdere soprattutto massa grassa con la pancia piena? Quindi senza soffrire da fame? Certo che è possibile, perché da una parte è molto importante la restrizione calorica. Purtroppo spesso quando i cani vengono messi a dieta si ritrovano a mangiare crocchette light, il che significa che sono crocchette purtroppo ricche di cereali e che quindi continuano a far balzare la glicemia e il cane continua ad avere fame. Ma sono ricchissime anche di fibre e di conseguenza si sentono gonfi ma con fame. Quindi il risultato è pessimo, è un po' come se tu continuassi a metterti a dieta mangiando solo polenta e finocchi bolliti. O perlomeno non è possibile mantenere il dimagrimento a lungo perché la glicemia continua a ballare e la fame continua a farsi sentire. Inoltre il metabolismo si ferma, la massa muscolare diminuisce, il risultato è che non appena diminuisce la dieta o mangia un biscotto per sbaglio, ricomincia a prendere peso. Al contrario invece mangiando alimenti che non alterano la permeabilità intestinale e che non alterano la glicemia, non la fanno ballare, quindi ad esempio verdure, ad esempio la carne, il pesce, i grassi, tengono una glicemia stabile. Anche gli zuccheri vanno bene, quindi i carboidrati complessi vanno bene, ma devono essere carboidrati che vengono assorbiti lentamente e quindi tengono stabile la glicemia che è poi il nostro scopo. Conosci qualche cane che ha dieta? Fammelo sapere qui sotto nei commenti e vai sul mio profilo e clicca segui.